Ad Agropoli, nella giornata di domenica 9 giugno, presso lo stadio Guariglia, un tifoso del Brindisi ha avuto un malore e nel corso della notte purtroppo è deceduto. Rabbia e sgomento in tanti che stavano assistendo alla partita dell'US Agropoli contro il Brindisi. A pochi metri dal campo Guariglia, un ospedale con pronto soccorso chiuso e non funzionale. La vita del tifoso brindisino si sarebbe potuta salvare se fosse stato aperto? E' la domanda che in tanti si stanno ponendo. Per queste motivazioni il presidente dell'Associazione Operatori Turistici di Agropoli, Loredana Laureana, ha lanciato una petizione popolare su change.org per sensibilizzare ancora una volta le coscienze. L'iniziativa è inoltre indirizzata al ministro della Salute Giulia Grillo. Agropoli, la più grande cittadina del Cilento, ha un ospedale nuovo in una posizione strategica che è stato chiuso per ragioni puramente politiche. Inizia così la motivazione della petizione online. Dalla data di chiusura sono morte già diverse persone, continua Laureana. L'ultima, domenica 9 giugno, a pochi metri dall'ospedale. Basta rimanere in silenzio. Rivoiamo il nostro ospedale, un centro cittadino di oltre 20.000 abitanti, a pochi chilometri da Pestum, con altri più di 20.000 abitanti, che d'estate raggiunge oltre 100.000 persone in affluenza turistica. Non può non avere il suo ospedale. Firmate la petizione, conclude la presidente dell'Associazione Operatori Turistici di Agropoli, Loredana Laureana, se volete salvare la vostra vita, quella dei vostri concittadini e dei nostri visitatori.